Anni di segnalazioni ancora non hanno prodotto nessun risultato. Luci fulminate dove ci sono, rifiuti abbandonati, anche pericolosi e le immancabili esondazioni di acqua dai tombini alle prime piogge ma anche alle seconde e terze. Insomma uno stato di abbandono totale in cui versano complessivamente tutte le arterie stradali che ricadevano sotto la vecchia zona industriale regionale da cui l'acronimo a tutti noto di ZIR poi transitate in Asi, oggi IRSAP che ha ritenuto, viste le note difficoltà economiche che ha attraversato l'ente negli ultimi anni, di trasferirne la gestione al comune di Trapani per la sua manutenzione. Un impianto definito scandaloso per come è stato lasciato dall'IRSAP che in qualche modo la giunta Tranchida ha tentato anche in questi giorni di mettere mano con la sostituzione di qualche luce nonostante i pali siano pochi e in pessimo stato. Sta di fatto tuttavia che da anni il buio pesto è il protagonista delle serate di chi vive e lavora in queste zone con tutto quello che ne consegue in termini di sicurezza per furti o atti vandalici nei fabbricati e di conseguenza disincentivare chi vuole investire sul territorio visto che la zona certamente non attrae versando in queste condizioni. Non solo la prima dorsale ZIR è una delle arterie maggiormente trafficate essendo la strada di ingresso uscita da e per Trapani. Insomma anche una sorta di biglietto da visita della città se vogliamo. L'amministrazione comunale nella persona dell'assessore Dario Safina da mesi ha un progetto pronto che dovrebbe prevedere un affidamento per l'efficientamento energetico da mettere a gara entro dicembre per montare nuovi pali già la prossima primavera. Ma il problema al momento resta ed è sotto gli occhi di tutti dando sponda tra l'altro a chi non ha senso civico facendo diventare alcune zone particolarmente morte delle vere e proprie discariche a cielo aperto andando a depositare nottetempo ogni tipo di rifiuto compreso materiali pericolosi e inquinanti come l'Eternit. Insomma una situazione insostenibile che la giunta comunale ha ben presente e alla quale starebbe per far fronte ma di certo c'è un passato e un presente decisamente insostenibile cui qualcuno per l'oggi e per l'ieri deve prendersi le sue responsabilità. Grazie a tutti.